Le primarie che si sono svolte sulla piattaforma SkyVote per il partito del Movimento 5 Stelle hanno dato una riconferma alla senatrice di Gironamo che dunque è di nuovo capolista. Sì, innanzitutto volevo ringraziare tutta la comunità del Movimento 5 Stelle abruzzese per questa riconferma. Credo che sia stato apprezzato il lavoro che ho svolto in quattro anni e mezzo e voglio acquisire questo dato in questo modo, una riconferma per poter continuare proprio sulle tematiche che mi hanno visto maggiormente dedicata in questo periodo. Si torna in campo dunque adesso come si lavorerà in vista della campagna elettorale? Una campagna elettorale un po' particolare, ce lo possiamo dire, in piena estate sotto l'ombrellone quasi. Credo che sarà una campagna elettorale molto viva, i nostri saranno punti tematici già ben definiti e portati avanti dal presidente Giuseppe Conte in quest'ultimo periodo quindi verrà rimarcato e anche recriminato quello che è stato il nostro risultato dell'azione politica svolta in questi quattro anni e mezzo. Sono molto convinta che i cittadini sapranno ascoltarci perché in questo momento dovremo colmare quel gap che è stato proprio sulla comunicazione da parte nostra. Forse troppo impegnati nelle attività da svolgere, nei risultati da portare a casa e quindi sui territori, non ci siamo dedicati molto a sbandierare, a mettere le bandierine sui nostri punti raggiunti. Guarda dall'alto la nascita di questo terzo polo, la situazione generale, adesso come giudicherebbe da pubblico cittadino mettendosi nei panni dei cittadini? Ma questo terzo polo è ancora da inquadrare quale sia perché ognuno lo recrimina. Per me il terzo polo siamo noi, è chiaro, il polo giusto, il polo che lavora per i cittadini, che parla di lavoro, che parla di sociale, di necessità, guarda all'autunno, guarda ad ottobre le necessità di cui i cittadini andranno ad avere bisogno quindi questo è un tema che abbiamo posto anche al presidente Draghi quando abbiamo notato che si parlava di tutt'altro e che ha poi di fatto in qualche modo contribuito ad avviare questa particolare campagna elettorale.